Concessionari all'auto, a novembre, superrottamazione. Continua la scalata in classifica della Pezzini Basket Morbegno che sale al settimo posto provvisorio in piena zona play-off nel campionato di Serie C Silver. Terzo successo consecutivo, il quinto stagionale per i gialloneri, che in trasferta si impongono per 53-58 sul campo della Bocconi Milano, con una superprestazione corale contro una diretta avversaria per l'obiettivo salvezza. È una squadra che sa lottare quella di Cristiano Ronconi, che dopo un primo quarto sotto di due punti spinge sull'acceleratore mantenendo sempre la testa avanti nel corso del match. Un successo arrivato non senza soffrire. Con Capitano Favaro costretto a lunghi periodi in panchina per problemi di falli, Felò e i compagni sono riusciti a lavorare molto bene in difesa e tirando con ottime percentuali da due. Problemi invece nei tiri liberi e dalla lunga distanza, che non garantiscono ai morbegnesi di gestire con più tranquillità la gara. Il risicato più 5 a fine primo tempo viene gestito dai gialloneri per gran parte del match, ma la Bocconi prova a dare il tutto per tutto e a 36 secondi dalla fine agguanta almeno uno, grazie ad un paio di difese aggressive, quasi al limite del fallo, e ad una serie di contrattacchi andati a segno. Schmidt in lunetta per Milano ha l'occasione di portare avanti i suoi ma fa 0 su 2. La Pezzini lotta a rimbalzo, vola in contrattacco e subisce il fallo con Felòi. Il morbeniese non sbaglia e con un 2 su 2 rimanda a meno tra i milanesi. La Bocconi tenta di rientrare ma la tripla di Nicolò Scriman non trova il fondo della retina. I gialloneri padroneggiano sotto canestro con Milano costretto al fallo per fermare il gioco. Alessandro Ronconi dighiaccia i tiri liberi. Il 2 su 2 a pochi secondi dal termine consegna la vittoria alla formazione valtelinese. Quel 4 su 4 ai liberi nostri, 0 su 2 loro, il triple è stata la chiave della partita. Comunque, ripeto, noi abbiamo giocato secondo me molto bene in difesa e in attacco dobbiamo continuare a insistere a giocare fino al 24esimo secondo. Dobbiamo essere ben fluidi, quando lo facciamo, che muoviamo bene il pallone, arriviamo con dei tiri puliti, poi possiamo anche sbagliarli, ma i tiri puliti i nostri, siamo a 10 e siamo 5-4. Quindi siamo oltre il 50% di vittorie e avendo vinto tre partite in trasferta. Quindi bene, 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 adesso ci aspetta Evro, sappiamo che sarà una battaglia, una delle squadre più forti del nostro campionato, ma ce la giochiamo in casa.